Allora Presidente, adesso alla luce di quanto i nostri economisti hanno esposto, vi sentite responsabili di non avere una visione, anche voi imprenditori, di innovazione, di guardare un po' più in là del breve periodo? Sappiamo, sappiamo perfettamente le difficoltà burocratiche, fiscali eccetera, però l'imprenditore ha anche una sua responsabilità. Quando vi raffrontate con imprenditori delle medesime dimensioni in Europa, o guardiamo anche il settore agricolo di piccola produzione della Spagna, hanno fatto la marcia in avanti, innegabile, addirittura in Grecia. Che cos'è che secondo voi vi blocca? Oppure ammettete o non ammettete questo problema? Beh, intanto non ci sono problemi ad ammettere perché non è che caricandosi di colpe poi le situazioni cambiano. No, 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 ma per capire se... No, no, ma capisco. Noi abbiamo un problema di fondo che è quello della cultura, ma la cultura... Quello che si dice a fuori onda, non hanno seguito i nostri... Cioè è un problema culturale italiano. Ma culturale, ma che non vuol dire avere cognizioni profonde di alta finanza, vuol dire avere cognizioni di storia, di geografia, la curiosità, aver letto dei libri, interessarsi di ciò che avviene negli altri posti. Questo è il vero limite. Noi siamo la nazione nella quale adesso i governanti dicono i numeri, il zero virgola non contano. E i cittadini subito pronti a credere a questa cosa perché gli piace, perché siamo umani, ci sembra comodo questo. A noi manca proprio la visione generale a lunga scadenza. Adesso l'ho fatto solo un'altra volta. Io ho fatto il sindaco a Piove di Sacco. Per cinque anni avevamo una visione molto lunga, infatti non siamo stati rieletti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che a volte dire qualche cosa che non è gradevole, che non è piacevole, ma che è indispensabile, diventa difficilissimo. E quindi colpa, colpa, responsabilità soprattutto delle piccole e medie imprese, del nord-est in particolare, e anche gran pregio, è stato quello che sono state fondate da persone che hanno lavorato tantissimo. Ma nel lavorare tantissimo non hanno potuto. Allora le nuove generazioni, ma anche noi associazioni di categoria, dobbiamo aiutare loro e noi stessi a capire meglio che cosa succede. Questo è perché poi sarà una richiesta che proviene dal basso, quella di avere una visione più ampia e generale e lunga. Perché adesso i giovani quello rinfacciano le tue generazioni. Certamente, hanno ragione. Hanno ragione, perché se noi abbiamo delle persone più o meno della mia età, che magari hanno avuto delle difficoltà nel lavoro o che, che anelano l'idea di andare in pensione, allora cosa vuol dire questo? Vuol dire che tu non hai visione per il futuro. O meglio, sei talmente preoccupato, e questo forse è un altro aspetto, di non poter avere la pensione dopo che dici intanto prendiamola. Ma qua bisogna fare un cambio culturale profondo e questo possono farlo solo dei governi che abbiano una visione comune, forte e il coraggio di andare a dire le cose ai cittadini. Il governo di adesso tutto sommato aveva dei numeri importanti e li ha, ma non li ha usati in questa direzione, li ha usati per consolidare il successo elettorale che aveva avuto. Legittimo è assolutamente, ma non efficace. Il consenso, mantenere il consenso onorevole, condiziona così tanto, io dico per la passata legislatura, insomma cinque anni comunque di governo, però anche lì sembra che non ci sia stata una vision che abbia portato al di là perché altrimenti il governo attuale non ci sarebbe stato, avreste avuto ancora il mandato legislativo. dottor Valerio che dice appunto che talvolta a dire la verità non si rivincono le elezioni e noi siamo forse un esempio di quella cosa. Riuscire a promettere una speranza che è quello che hanno fatto le due forze politiche di governo consente di vincere le elezioni, però rende maledettamente difficile governare. Di sicuro anche i governi precedenti, i governi a trazione PD hanno commesso degli errori e forse hanno mancato alcune scelte strategiche. Io penso però che noi ci abbiamo provato, quando si parlava dei deficit strutturali del nostro paese, della nostra economia e anche a livello istituzionale, noi avevamo provato a cambiare davvero un governo del cambiamento ante l'iteram si potrebbe dire, alla fine avevamo provato a dare uno strumento al paese, per esempio di una democrazia dell'alternanza efficiente ed efficace. Oggi ci troviamo con due forze politiche diverse, alla stessa missione dell'onorevole paternoster, che però sono costrette da un sistema proporzionale a governare insieme e quindi difficoltosamente a mettere in campo un contratto di governo, una cosa che non era stata vista in precedenza. Da questo punto di vista noi speravamo che ci fosse la possibilità anche di una sorta diciamo di legge elettorale, chiamiamola come quella dei sindaci, che consentisse a una forza politica in maniera omogenea di fare una proposta politica, di poter governare cinque anni, di avere quella lungimiranza necessaria e quella tranquillità necessaria per fare delle scelte magari anche impopolari all'inizio ma che poi possono rendere efficacemente sul sistema politico-economico e questa cosa è naufragata. Allora la colpa è anche nostra se è naufragata, quindi sono il primo a fare ammissione di responsabilità. Dall'altra parte mi pare di capire che per il consenso nella scorsa legge di bilancio si siano inserite, mi pare di trovare concordanza anche con chi è più esperto di media economia, la concordanza nel vedere come quelle misure che si sapevano non avrebbero avuto effetti positivi per quanto riguardava la crescita. Si sapeva che c'era come dire un trend internazionale in declino e in rallentamento e quindi non dovevano essere fatte, solo che c'erano le politiche, le elezioni europee e quindi si sapeva che forse il governo avrebbe anche potuto non durare, dico tutti i condizionali che si possono mettere in una frase anche quasi sbagliando, alla fine perché bisognava mettere tutti i carichi della briscola nella stesso giro, tutti subito sapendo poi che però ci sarebbe stato qualche problemino. Perché lo diceva uno dei nostri esperti, mi pare alla fine che anche la clausola di salvaguardia, che se nella natura c'è stata anche in passato, nella misura così alta non c'era mai stata, perché alla fine le due misure, quota 100 e reddito di cittadinanza erano tutte fatte a debito, con quella che è 2,4 di deficit, 2,04 che era abbastanza anche assonante sembrando la vittoria del balcone di Di Maio, alla fine penso che siano stati fatti dei gravi errori ed oggi alcuni dei problemi che abbiamo e che avremo nei prossimi mesi, secondo me nascono da tanti problemi che l'Italia si porta dietro da tempo, forse da degli errori anche dei governi precedenti che secondo me comunque avevano provato a guardare un periodo un po' più lungo al di là della stretta elezione elettorale del momento, però diciamo che le scelte che sono state fatte in questo anno hanno messo un maccino molto importante, quindi io mi prendo la mia parte di responsabilità, però alla fine mi pare di vedere che negli ultimi anno abbiamo fatto dei passi indietro e i numeri, diciamo di P, dell'occupazione, del deficit, del debito in previsione eccetera, anche se qualcuno, non so, alla fine poi noi l'alliva nel senso nel momento in cui abbiamo governato l'abbiamo sterilizzata tranne nel caso del primo governo Letta in effetti, ma più per incapacità o impossibilità che per volontà, però è vera anche un'altra cosa e qua gli economisti potrebbero darmi conferma, alla fine la teoria di qual è la migliore tassazione possibile per rendere più libera l'economia di un paese tra tassazione indiretta o tassazione diretta, molti economisti anche diciamo di area libera pensano che le tassazioni indirette come l'IVA possono essere più efficaci rispetto per esempio alla tassazione diretta, so che la cosa non è come dire unanime, per esempio però nel governo se non erro mi sembra Giancarlo Giorgetti che non è figura di secondo piano avrebbe diciamo una posizione personale quindi non collettiva però più favorevole a lasciar scattare l'IVA per avere magari delle risorse per fare altre azioni, quindi io sono sempre stati tra coloro che pensavano comunque che in un momento storico, gli ultimi dieci anni di crescita debole aumentare l'IVA può diventare una doccia fredda da cui ci si riprende difficilmente e tuttavia ci sono anche delle filosofie diverse che dicono diminuiamo per esempio l'IRPEF, per esempio facciamo una tassa piatta piuttosto che sterilizzare l'IVA, ecco quindi le filosofie sono diverse, poi io chiedo anche di guardare i fatti concreti che sono stati fatti negli ultimi anni e di vedere i risultati che questi hanno comportato quando c'era un governo del PD alla fine da un segno meno del PIL si è passati a un segno più, l'occupazione ha avuto un'inversione di tendenza un po' anche grazie a un periodo di forti incentivi poi via via degradati a zero e quindi alla fine capisco l'equidistanza che è corretta da parte di chi ha come dire una visione più tecnica delle cose del mondo però penso che anche guardando ai fatti e ai dati alcune cose mi danno ragione Allora due questioni, quanto vi blocca, non so che sta alzando gli occhi al cielo però vabbè te tocca, quanto costituisce un blocco queste benedette lezioni europee e questo cerchiamo anche di spiegarlo perché tra l'altro sentendo molte persone vedono l'Europa tanto veramente tanto lontana e non sentono questo peso delle elezioni europee come viene invece appalesato dai media, come magari viene percepito a livello di politica perché non è sentita così importante e quanto effettivamente questo rapporto questo contratto di governo, questo rapporto che avete con il Movimento 5 Stelle vi frena o impedisce di attuare certe politiche più di ampio respiro? O no? No, no, tutto giusto, nel senso che è chiaro che l'Europa si vede e sembra così distante ma in realtà alla fine purtroppo io penso che i fattori negativi che oggi piombano anche sull'economia ma non solo su quella, derivano proprio da decisioni a livello comunitario che sempre più ci interessano nel senso che i governi vengono via via, non dico svuotati, ma comunque perdono di valore e poi le direttive comunitarie, le leggi comunitarie sono quelle che oggi fanno i disastri che stanno succedendo non solo nel mondo industriale ma anche nel mondo agricolo e in tanti altri settori Ma c'è un'ingerenza forte nella vostra attività di governo da parte dell'Europa una volta che viene presentata la legge di bilancio, una volta che viene presentato un progresso, un DEF e quindi posta L'Europa sta entrando, ma non da quest'anno, da sempre, a gamba tesa nell'economia, e non solo italiana nell'economia internazionale, nell'economia europea, l'Europa fa questo poi avrà anche tanti altri, chiaramente, lati positivi però è indiscutibile il fatto che l'Europa oggi ci mette il becco, se così si può dire in tutte le più importanti azioni che un governo può esercitare, questo lo sappiamo L'elezione europea è un passaggio, come dicono tutti, per adottare un certo tipo di politica e poi invece vedere che cosa succede È chiaro che le elezioni europee rappresentano un passo fondamentale, non solo per l'Italia ma un po' per tutti i governi di tutti i paesi che la compongono È chiaro che fino ad oggi c'era un certo equilibrio, i partiti euroscettici un po' messi nell'angolino gli altri, ma non è che gli euroscettici perché sono brutti, cattivi, razzisti, fascisti non è questo il fatto, il fatto è che c'è una certa mentalità che oggi ha prevalso fino ad oggi, fino al 26 di maggio, che pensiamo e speriamo che del 27 maggio cambi nel senso che i governi nazionali si riprendano un minimo, si dice così, di sovranità di potere, di operare sul proprio, cose che ad oggi non hanno e non solo ribadisco nel settore industriale, ma anche della finanza oggi l'Europa purtroppo ci dà delle direttive importantissime che tu non puoi sgarrare e noi questo lo percepiamo tutti i giorni, magari i nostri concittadini un po' meno perché vedono appunto l'Europa distante, hanno in luce, ma in realtà è secondo me è una cosa molto pesante e noi per questo ribadiamo che l'Europa oggi, le elezioni europee oggi rappresentano sicuramente un passaggio fondamentale, dopodiché è chiaro che si diceva prima della Cina, la Cina non ci ha pensato un attimo ad abbassare l'IVA, abbassare le tasse quindi tasse dirette, non appena visto che le sue economie non è che faceva come l'Italia dall'1,5% allo 0,1%, dall'8% al 6,5% noi se crescessimo un terzo della Cina saremo il paese più felice di questo mondo, purtroppo oggi non è così, però io penso e condivido anche il fatto del discorso che stimoliamo con lo sblocco al cantiere le infrastrutture importanti come la TAV, ma non solo come la TAV e il beneficio non ce l'abbiamo subito perché ce l'avremo fra un anno, due anni, tre anni perché da quando si fa lo sblocco al cantiere a quando le luspe cominciano ad andare in azione passano in Italia 5 anni e il beneficio ce l'avremo fra otto anni, però sapendo anche questo e non è che siamo più furbi degli altri, lo sappiamo che funziona così in Italia però nella legge di bilancio abbiamo anche previsto per esempio 450 milioni di euro spendibili entro il 15 di maggio di quest'anno per gli enti locali per fare opere pubbliche e quindi sono soldi che andavano e sono stati cantierizzati e spesi immediatamente ne abbiamo previsti 600 milioni da qua al prossimo 31 di ottobre sempre a favore degli enti locali questi fino a 20 mila abitanti e anche oltre in questa ultima ci sono elementi espansivi, quello che hanno fatto capire è che sono manovre non espansive ma di supporto sociale. Di stimolo, noi le abbiamo chiamate manovre di stimolo quota 100, è vero che costa tanto, però quota 100 lo sappiamo bene che è stata fatta principalmente per due obiettivi uno per cercare di mandare pensione a quelli che comunque dopo una vita che pagano i contributi che magari sono anche nei cantieri o sui tetti è giusto che vadano in pensione due è perché ci sono migliaia di giovani in Italia che ogni anno vanno via dall'Italia dopo che magari li abbiamo cresciuti per 25 anni pagando neanche le università perché in Italia non trovano un minimo di sbocco lavorativo quota 100 è stata fatta anche per questo motivo è chiaro che se vanno in pensione 50 persone con quota 100 non verranno assunte 50 persone in Italia soprattutto in un momento così disgraziato, figuriamoci però comunque ci saranno delle possibilità, delle opportunità lavorative per tutti quei giovani che oggi non hanno speranza e questi prendendosi il primo stipendio qualcosa porteranno a casa e qualcosa spenderanno anche in stato fatto anche per questo motivo quindi noi sappiamo bene le nostre condizioni sappiamo bene il nostro debito sappiamo bene tutte queste problematiche sappiamo bene l'erogne che ci dà l'Europa però stiamo facendo di tutto per fare presto per fare bene, faremo anche degli errori su questo non c'è nessun dubbio però stiamo cercando di fare tutto il possibile affinché le cose si raddrizzino chiudo dicendo anche un'altra cosa che magari oggi è passata un po' inosservata perché sono passati 8 mesi, 9 mesi, 10 mesi dall'inizio del governo sembrano che siano passati 10 anni e beh l'invasione che ci arrivava dall'altra parte del Mediterraneo oggi ce la siamo dimenticata ci costava e ci sta costando 5 miliardi di euro tutti gli anni per mantenere chi viene dall'altra parte del mondo magari che non scappa nemmeno dalla guerra sono soldi questi che ancora oggi stiamo spendendo perché comunque in questo momento non è facile assolutamente rispedirgli da dove sono arrivati però comunque abbiamo fermato un'invasione abbiamo cercato e ci siamo riusciti a costo zero ad evitare che l'Italia veramente diventasse un campo profughi dell'Europa perché l'Europa è quella solidale, è quella che non ci piace è quella che non ci viene incontro ma è quella che si gira dall'altra parte e anche questo è un particolare riguardo a tutti quanti perché quando c'è da fare solidarietà l'Italia è stata lasciata sola abbiamo fatto e abbiamo ottenuto ribadisco a costo zero che si fermi l'invasione l'invasione si è fermata finalmente adesso stiamo ragionando su quelle che ci sono in Italia se noi parliamo con qualsiasi prefetto fino a qualche mese fa erano terrorizzati perché non sapevano più nemmeno dove mettere questa povera gente che veniva dalle altre parti questo è un problema che abbiamo risolto non riguarda l'economia riguarda anche l'economia riguarda anche l'occupazione riguarda a 360 gradi ribadisco siamo al governo da 10 mesi io penso che i cittadini stanno capendo che questo governo pur tra mille difficoltà nell'emergenza, nella fretta sta cercando di fare di tutto per cercare di sistemare poi i conti adesso comunque i problemi per volta sono tutti preoccupati per questo benedetto problema dell'aumento dell'IVA accisa insomma questo è una noi l'abbiamo detto che non l'aumenteremo l'abbiamo detto e io sono straconvinto ma non perché faccio parte della maggioranza ma perché penso che oggi sia gravissimo aumentare l'IVA che questo governo non l'aumenterà l'IVA troverà qualsiasi sistema qualsiasi soluzione qualsiasi artefizio in modo che l'IVA non aumenti perché già avere un'IVA al 22% è mostruosamente alto poi figuriamoci con le cise che le cise arrivano da 50 anni e naturalmente che lo diciate Paolo se posso è molto importante è già un primo passo che non lo scriviate è un po' più grave ci dici solo grosso modo dove immaginate così almeno a grandi linee di recuperare le risorse necessarie perché è quello che ci preoccupa di più non tanto che diciate o non diciate una cosa ma dove potrebbero essere individuate le risorse che sono tante che sono tante anche a causa delle due manovre io chiamo elettorali forse qualcuno le chiama in maniera diversa che sono costate tantissimo e che hanno comportato l'aumento della cifra necessaria a sterilizzare l'aumento dell'IVA quindi non è niente di polemico però se ci si dice che noi le troviamo sulle agevolazioni fiscali che verranno tagliate è bene che prima anche delle elezioni europee gli italiani lo sappiano che per esempio se vanno magari terrete quelle sanitarie mi augurerei ma se invece finanziano una onlus piuttosto che fanno un investimento di ristrutturazione della loro casa dove magari si agevolavano le piccole imprese del settore edile se tagliate quelle robe lì per trovare i soldi e sterilizzare l'IVA è una cosa che dobbiamo sapere per conto mio se invece si togliessero gli 80 euro che sono stati dichiarati soprattutto dal Movimento 5 Stelle come inutili almeno i 10 milioni di italiani che oggi prendono 80 euro al mese dovrebbero sapere che saranno loro a pagare il prezzo del reddito di cittadinanza piuttosto che se alla fine saranno altre cose noi ci interessa saperlo perché quando si parlava di lungimiranza noi abbiamo fatto noi abbiamo messo delle risorse sulla TAV la TAV se se ne parla così tanto dopo 10 anni che era sparita dagli argomenti della politica è perché i governi precedenti hanno messo miliardi per sbloccare i cantieri della TAV invece qua mi pare che serva qualcuno che sblocchi lo sblocco i cantieri perché da un mese circola in qualche ufficio e non si vede noi vogliamo crederti però dici qualcosa in più adesso la parola dell'onorevole potrebbe andare in pubblicità io ribadisco che sul discorso dell'IVA è stato preso un impegno formale dal governo di non aumentarla dove è chiaro che oggi che siamo il 23 di aprile non possiamo dire il tiro fuori dalla tasca destra piuttosto che dalla tasca sinistra perché ancora non si sa si sa bene che non aumenterà ci sono due commissari che ci stanno lavorando e io sono convinto che l'unica cosa che non si farà per certo sarà proprio l'aumento dell'IVA l'abbiamo già detto o dell'IRPEF dirlo oggi da dove può arrivare non lo sa nessuno perché nessuno ha la sfera di cristallo o dall'IRPEF perché è stato detto anche l'IRPEF insomma abbiamo cercato abbiamo già diminuito con la flat tax fino a 65 mila euro le tasse ci siamo proposti di diminuirla e lo faremo fino a 100 mila lo faremo gradualmente per tutte le soli di reddito nei prossimi anni l'abbiamo detto e lo faremo come tutto quello che è stato promesso e mantenuto fino adesso io penso che ribadisco che sia stato fatto tanto e anche bene sicuramente visto che siamo persone umane abbiamo fatto degli errori o magari delle sottovalutazioni però comunque ci stiamo lavorando e sulla TAV io posso dire con assoluta certezza che per quanto riguarda tratta Lombardo Veneta quindi da Brescia fino per lo meno a Verona lì non c'è niente di bloccato perché i lavori stanno andando avanti gli spropri e tutto quello per quanto riguarda la tratta invece della Val di Susa sappiamo bene che sono stati dati il via ai bandi e che si sta lavorando è chiaro ribadisco per l'ennesima volta che essere al governo con un movimento come il Movimento 5 Stelle che la vede in parte diametralmente apposta non è facile però questo era il pane che si aveva sulla tavola fino alla fine di maggio dell'anno scorso per evitare elezioni anticipate visto che non c'erano i numeri lo sappiamo tutti quanti per un governo diverso questa è stata fatta una scelta e penso che mettere tutti i punti fondamentali in un contratto punto per punto e firmato dalle parti sia stata una cosa assolutamente trasparente a molti dà fastidio però così stiamo facendo pubblicità poi torniamo insieme